Salve carissime, benvenute, io sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio canale. Cosa faremo? Andremo a vedere cosa è previsto per voi prossimamente e lo vedremo con queste mie carte, gli oracoli di Ellen. Quindi andiamo già a mischiare questi oracoli, sarà un interattivo breve dove andremo soltanto a vedere cosa è previsto per voi prossimamente. E' già accaduta una carta, ma sicuramente qui già da questa prima carta potrei dire dei messaggi, forse conoscerete qualcuno virtualmente. Voi state vivendo un problema di separazioni o questa persona sta vivendo, nel contempo lo conoscerete, dei problemi legali di separazione o di divorzi. Quindi, cosa è previsto per voi prossimamente? Sono uscite altre due carte. Abbiamo la carta anima confusa e la carta della fortuna. Vediamo cosa è previsto per voi prossimamente. Allora ragazze e ragazzi, qua mi viene intanto una situazione che adesso vi spiego. Allora, voi state avendo dei contatti virtuali con messaggistica in chat con una persona che ha l'anima confusa. Perché? Perché sta chiudendo una situazione dei problemi legali o legati a una separazione o un divorzio oppure legati a altre situazioni, diciamo, per lui cose magari fiscali, legali, roba del genere. E' molto confuso, però vedete, è come se con voi ha trovato un avverbo nuova, tant'è che vorrebbe venire da voi ma si trattiene. Vediamo perché si trattiene. Perché forse pensa che voi non siete abbastanza interessate oppure siete voi che vi trattenete perché evidentemente questa persona non la vedete proprio che faccia degli sforzi importanti per venire da voi. Quindi avete percepito che lui è un po' indeciso, come se fosse lento a prendere delle decisioni e quindi avete percepito anche che in questo momento non vuole impegnarsi. Probabilmente può darsi che questa persona abbia una situazione legata al suo passato che non riesce totalmente a, come dire, a passarci sopra, no? Quindi lui vi vede come una persona da poter riacquisire questo senso di svago, di conoscenza, anche di recuperare, di risate, insomma di romanticismo e tutto. Però questa persona al momento evidentemente con la persona con cui si sta separando in fondo ha una situazione karmica nel senso che è indeciso se ritornare da lei o da lui o comunque andare avanti nella sua vita. Quindi voi avete a che fare con una situazione del genere e quindi vi mantenete un po' sul chi va là perché avete percepito che questa persona è indecisa perché è molto legata ancora a questa situazione sua del passato e per cui quello che è previsto per voi prossimamente è o questa conoscenza che si evolverà così oppure insomma se già siete a buon punto questa persona sta pensando di prendere una decisione però ancora non è totalmente pronto. Vediamo con le sibille di nostra damus se prenderà una decisione e che tipo di decisione prenderà se sarà a vostro favore o a vostro sfavore. Qui abbiamo il castello, abbiamo il giullare e abbiamo lo zodiaco. Al fondo del mazzo c'è la rosa. Quindi intanto voi dovete accettare dei consigli che vi vengono da persone amiche, quindi siete molto orgogliose riguardo questa situazione e quindi forse meditate di allontanarvi. E le carte vi dicono di cercare dei consigli da parte di persone amiche. Qui abbiamo la carta del castello, quindi a voi non vi manca né coraggio né temerarietà. Siete temerari e quindi dovete però dominare tutto questo ardimento che avete. Cercate di essere un po' più tranquilli o tranquille. Siete anche molto preoccupati con il giullare perché pensate che questa situazione può andare male. E invece non vi dovete preoccupare dice questa carta perché voi aspettate brutte notizie e invece vi arriveranno delle belle notizie che vi riallegreranno. Quindi ogni cosa finirà bene per voi. E con la carta dello zodiaco dovete avere maggior volontà e fermezza per trovare le risoluzioni e avere il vantaggio nelle risoluzioni. Quindi sembrerebbe che questa persona riesce, forse anche grazie a degli aiuti delle persone che comunque esagge, che comunque lo aiuteranno nella decisione, prenderà coraggio con due mani, insomma anche voi. E quindi vedo che questa situazione con questa nuova conoscenza o con questa conoscenza che avete comunque possa svolgersi in maniera positiva. Quindi questo è quello che è previsto per voi prossimamente. Ragazze, ragazzi, io vi ringrazio di essere state con me. Vi mando un abbraccio di luce e vi do appuntamento al prossimo mio interattivo. Ciao!